Bentornati sul nostro canale, Ludovico Cianchetta Vasquez, affitti brevi, imprenditoria, lifestyle, chi più ne ha più ne mette, insomma cerco di parlare di un po' tutti gli aspetti che riguardano la mia vita, per lo più le cose interessanti che riguardano il business e oggi parliamo di affitti brevi, come avrete potuto vincere dal titolo, ma soprattutto di leggende metropolitane, ovvero di tutte quelle diciture, quelle false credenze che costernano questo business, che spesso limitano le persone, magari non entro in questo business perché penso che, o che frenano i proprietari a darci in gestione l'immobile, quindi no, non voglio fare sublocazione perché penso che sia illegale o che semplicemente riempiono la bocca di tante persone che in realtà non sanno di che cosa stiamo parlando, quindi questo vuole essere un video barra lezione utile a te che magari vuoi entrare in questo business per farti capire che in realtà molti scogli che tu pensi che ci siano non esistono o per aiutarti se già sei dentro questo business a, come dire, spargere il verbo corretto e far capire ai tuoi interlocutori che molte delle cose che si dicono sono assolutamente errate quindi partiamo dalla prima questione che abbiamo già trattato in altri video, l'ho detto e ridetto e lo ridico per la millesima volta la sublocazione è legale, tantissime persone dicono che la sublocazione è illegale, no, la sublocazione è legale è regolamentata dall'articolo 1594 del codice civile che dice che la sublocazione è 100% legale a patto che venga espressa nel contratto e a questo punto qualcuno direbbe, eh ma non te la dà nessuno la sublocazione, non è che non te la dà nessuno devi chiederla, devi contrattare, devi convincere il tuo interlocutore, poi te la dà la sublocazione se prendiamo la maggior parte dei contratti che troviamo su google dicono la sublocazione è vietata ok, ma non significa che sia illegale, è una cosa completamente diversa e non significa che i proprietari non l'accettino perché se sappiamo, come dire, come convincerli, se abbiamo padronanza di quelle che possono essere le leve in realtà la sublocazione è possibilissima da ottenere e anzi è molto più frequente di quanto non si pensi quindi, prima, leggenda metropolitana, la sublocazione è illegale, è errato, è legalissima e, secondo la leggenda metropolitana, la sublocazione è impossibile da ottenere no, non è impossibile da ottenere, al contrario, è molto più semplice di quanto non si possa pensare terza leggenda metropolitana è quella del, è mai obbligatoria la partita IVA in realtà, questo dell'affitto breve è uno dei pochissimi business dove in maniera 100% legale si può operare senza partita IVA perché? perché il reddito che noi andiamo a generare può essere classificato anche come reddito da locazione è il reddito da locazione per legge, sino a 4 immobili, è possibile tassarlo come cedolare secca poi è ovvio che ci sono mille opzioni, l'abbiamo vista all'interno del canale, non sto qui a ripeterle è ovvio che se io faccio il consulente di affitti brevi come gestione online da remoto io sono un consulente, quindi il mio non è un reddito da locazione, il mio è un reddito da consulenza però, ad esempio, nella sublocazione si può fare come persona fisica, sino a 4 immobili con cedolare secca pagando solamente il 21% di tasse quindi, diciamo che è un grande vantaggio perché se io volessi fare e-commerce è necessario, indispensabile avere una partita IVA prima ancora di pubblicare il mio e-commerce indipendentemente che fatturerò un centesimo o un milione di euro io ho bisogno della partita IVA voglio fare anche semplicemente un piccolo bar, un baracchino che vende i panini io devo avere la partita IVA e oltre a ciò tantissime autorizzazioni dal punto di vista chiaramente sanitario, eccetera, eccetera, eccetera quindi qualsiasi business che prendiate in esame è obbligatorio avere la partita IVA se parliamo di cose legali poi quelle illegali si possono fare anche senza, ma sono illegali quindi poco ci interessa e quindi, a seguito di ciò, la leggenda metropolitana alla quale vogliamo rispondere è che no, non è obbligatoria la partita IVA né per voi, in qualità di imprenditori, entrare in questo business men che meno per i proprietari a meno che un proprietario non abbia più di 4 immobili dati in gestione ad un property manager il proprietario può tranquillamente avvalersi della forma non imprenditoriale tal proposito, pescatevi i video qua sul canale legati alla differenza tra forma imprenditoriale e non perché è un mondo molto interessante e essere a conoscenza di queste cose è fondamentale per avere successo in questo business passiamo a una delle osservazioni ad una delle leggende metropolitane che mi vengono fatte più spesso ovvero, ma gli ospiti mi distruggono casa? ma gli ospiti mi fanno le feste? dipende, non prendiamoci in giro è impossibile garantire che una persona non ti faccia un danno in casa però nella mia esperienza pluriannale posso dirvi che i danni che mi hanno fatto in casa sono un piatto rotto, un bicchiere rotto, un muro leggermente sporco ovviamente noi siamo ipertutelati da questo punto di vista innanzitutto Airbnb ti offre un'assicurazione sino a 3 milioni di euro e già qui potremmo chiudere questo punto perché è una garanzia incredibile dove tra l'altro non c'è bisogno del perito di fare la denuncia in polizia tu mandi una foto del danno mandi un preventivo di quanto ti costa la sostituzione o riparazione e Airbnb ti paga immediatamente nel giro di pochi giorni e tu hai risolto il tuo problema con Booking c'è la possibilità di impostare delle cauzioni che poi eventualmente possono essere riscosse chiaramente motivando la richiesta all'assistenza di Booking ci sono anche gli ospiti che prima di arrivare al dover richiedere manualmente alle piattaforme il risarcimento del danno pagano di loro spontanea volontà infatti è molto comune che un ospite faccia un danno e ti lasci letteralmente la banconota sul tavolo dicendo ti guarda scusa ho rotto un bicchiere ecco ti 10 euro spesso ti lasciano molto più di quello che è realmente il danno quindi da questo punto di vista siamo ipertutelati e qua parliamo di risarcimento danni poi anche lì c'è il rischio che facciano feste Airbnb vieta categoricamente il fatto che vengano fatte feste per di più lo capisci anche quando uno ti prenota se è chiaro è un nucleo familiare che viene lì a soggiornare o se una persona ti prenota una casa per 20 persone ti fai due domande ma anche lì ad esempio all'interno di B&B Academy spieghiamo che ci sono tutta una serie di dispositivi wifi collegati quindi ad internet che hanno una serie di sensori che in base al numero di decibel che vengono prodotti ti avvisano ti mandano una notifica circa una potenziale festa che si sta svolgendo a casa tua chiaro che se tu vedi che per un'ora di fila hai dei decibel altissimi ti rendi conto che probabilmente sta avvenendo una festa nel tuo B&B o comunque tu puoi mettere delle videocamere nelle aree esterne se vedi passare 20 persone di fila beh probabilmente è stata fatta una festa a casa tua a me è successo probabilmente una o due volte in tantissimi anni in tantissime proprietà che ho e anche lì onestamente quando è successo io ne sono uscito vincitore nel senso che siccome sono state violate le regole della casa siccome magari la casa era un po' più sporca eccetera 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 sono riuscito a farmi dare un risarcimento d'anni importantissimo dal quale poi io sono riuscito anche a guadagnare ad avere un lucro avere proprio un profitto quindi tornando indietro quasi mi farebbe piacere che venissero fatte queste feste dentro casa mia perché alla fine ne è valza la pena cioè c'è stata appunto una compensazione pecuniaria per queste feste che si sono svolte a casa mia quindi la leggenda metropolitana del mi distruggono casa mi fanno le feste non è reale secondo me cioè non è una cosa così cattiva come te la possono raccontare e se pensiamo poi che possiamo ottenere dei risarcimento d'anni in realtà ripeto questa cosa diventa talvolta vantaggiosa ora se un proprietario di casa però voi gli dite sì c'è il rischio che comunque ti facciano un danno potrebbe veramente essere molto poco propenso a darvi l'immobile in gestione e in property management quello che secondo me è importante spiegare a queste persone è che un inquilino classico quindi uno studente, un giovane lavoratore, una famiglia ha molte più probabilità di farti un danno perché? ve lo spiego subito prendiamo una casa X a Roma ok? io Ludovico che faccio affitto breve con questa casa X a Roma se ho un muro sporco devo sistemarlo immediatamente altrimenti l'ospite che domani soggiorna mi dice Ludovico ma ho prenotato una casa e il muro è sporco quindi io sono molto più propenso e reattivo a sistemare eventuali danni o problemi che ci possono essere mentre uno studente che vive lì 365 giorni l'anno ma chi se ne frega che c'ha la striscia sul muro la tiene lì e il giorno che se ne va appioppa il danno al proprietario piuttosto che si rompe una zanzariera veramente un qualsiasi tipo di danno accidentale o non volontario o involontario un inquilino normale sopravvive anche magari un mese con la zanzariera rotta o con l'aria condizionata che non va io invece sono tempestivo nel risolvere questo tipo di danni perché non è un solo un danno diciamo oggettivo sulla casa ma è anche un danno non soggettivo però diciamo che a cascata poi può danneggiarmi ulteriormente con recensioni negative richieste di rimborso da parte degli ospiti lamentere all'assistenza di Airbnb e Booking e quindi io ma anche tu che potenzialmente stai guardando questo video e vuoi fare il property manager o subloccazione devi spiegare al proprietario che in realtà dando in gestione la casa a te sarà molto ma molto meno probabile avere questo tipo di danni perché tu non ti puoi permettere in qualità di professionista di avere la casa non in ottimo stato perché gli ospiti si lamenterebbero lascierebbero recensioni negative e chiederebbero il rimborso eccetera 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 quindi il rischio che facciano feste c'è tanto quanto a fare un affitto classico il rischio che mi facciano danni è letteralmente minore con l'affitto breve anche perché quando gli ospiti soggiornano nei nostri B&B ci lasciano i loro documenti e non penso che uno che arriva dall'altra parte del mondo consapevole che io ho i suoi documenti in mano vuole fare danni con il rischio che io gli faccia una denuncia magari questo non lo lasciano neanche partire quindi partiamo da questo presupposto e anche se lo facessero innanzitutto ho fior fior di assicurazioni e caparre sulle quali rivalermi e soprattutto veramente qualsiasi accadimento comunque io sono iper interessato a risolvere questo problema il prima possibile perché gli ospiti successivi potrebbero lamentarsi e generare danni ancora maggiori ecco perché il fatto che dare la casa in Airbnb uguale me la distruggono è veramente una grandissima stupidaggine ed è quindi una grandissima leggenda metropolitana cioè nulla di più falso passiamo al prossimo punto questo è particolarmente caro a diciamo determinate determinati schieramenti politici hanno fatto anche proteste su questa tematica ovvero mettendo le case su Airbnb le stai togliendo alle famiglie le stai togliendo ai giovani studenti e quant'altro ora tralasciando che io penso che uno dopo che ha speso centinaia di migliaia di euro per comprarsi una casa sia libero di farci quello che vuole perché altrimenti veramente cioè è una dittatura se io compro una casa e tu mi obblighi ad affittarla ad un determinato tipo di persona o di categoria sociale tu mi stai obbligando tipo dittatura a fare un qualcosa che io non ho voglia di fare quindi io penso che ognuno sia libero di affittare la casa come chi a chi e quando vuole quindi uno deve essere libero di metterla in affitto breve ma c'è anche da dire che purtroppo ad oggi in affitto classico una persona non è tutelata cioè se io l'affitto allo studente di Bologna e questo non mi paga purtroppo io non posso farci niente se l'affitto allo studente di Bologna e questo mi distrugge la casa io purtroppo non posso farci niente cioè è pressoché impossibile recuperare i soldi quindi quello che ho potuto constatare in centinaia di proprietà acquisite e poi anche sentendo chiaramente tutte le persone che fanno parte delle nostre community è che la maggior parte delle case che vengono acquisite sono case che altrimenti sarebbero state vuote cioè non è che l'alternativa per il proprietario era non la do a te in affitto breve allora la do allo studente universitario o la do al poveretto che cerca casa no se non la do a te la tengo vuota tant'è che la maggior parte delle case che io ho preso in gestione sono case di ex morosi quindi proprietari che hanno avuto problemi di monosità con incolini che non pagavano e che l'hanno data poi a me in gestione in affitto breve e che tenevano questa casa magari chiusa da anni ed ecco perché talvolta ai proprietari non gliene frega neanche di quanto si guadagna cioè non è che te la danno questa casa solo ed esclusivamente se si guadagna di più loro te la danno a prescindere perché l'alternativa sarebbe tenerla ferma vuota e incassando zero euro quindi stiamo togliendo case a famiglie studenti o giovani lavoratori assolutamente no e poi anche lì l'ho detto più volte nei miei video chi mi segue lo sa se non trovi casa in centro a Milano vai in periferia cioè io tutta la mia vita ho vissuto quando vivevo in Italia in una zona periferica della città a parte che se me si vive meglio ma tralasciando ciò cioè la crisi degli studenti che non trovano casa a Milano se non trovi casa a Milano prenditi una casa a Monza prenditi una casa a Rozzano prenditi una casa a Sago Bucinasco Corsico ti prendi i mezzi e vai all'università senza troppi problemi è chiaro che se vado nel centro di una qualsiasi città è più difficile trovare casa al di là di affitti brevi o no perché se vogliamo dirla tutta a coloro che dicono e qui entriamo in un'altra leggenda metropolitana che non avevo previsto di trattare ma possiamo farlo ad esempio mi sembra a Madrid o Barcellona poi magari troviamo l'articolo e ve lo mettiamo qua è stato fatto uno studio dove si additava all'affitto breve la colpa diciamo la motivazione per la quale le persone non trovavano casa a Madrid o Barcellona non ricordo era appunto il fatto che c'era l'affitto breve in questa città ripeto non ricordo quale comunque hanno bloccato l'affitto breve per 5 anni 10 anni e nonostante ciò le case non si trovano nonostante ciò i prezzi sono saliti perché poi non è solo questione di disponibilità ma dicono anche che gli affitti sono saliti a causa dell'affitto breve no questo è un grandissimo caso studio dove nonostante gli affitti brevi in questa città siano stati bloccati la situazione non è cambiata ma anzi è peggiorata quindi ancora una volta se qualcuno vi pone di fronte a questo tipo di osservazione fateli notare che è un'affermazione completamente errata i prezzi aumentano a causa dell'inflazione dell'aumento di milioni di altre cose la benzina i tassi di interesse eccetera 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 e tutto segue un trend chiaramente di aumento generalizzato dei costi che poi è la famosa inflazione passiamo alla leggenda metropolitana successiva una delle mie preferite perché perché la gente non capisce che la maggior parte di giornalisti e giornali in realtà sono dei business e il loro business è catturare la vostra attenzione e il loro business è creare commenti scatturire talvolta anche odio al fine di avere chiaramente più interazioni e più interazioni significa più soldi e spesso se leggiamo gli articoli di giornale sembra che l'Italia stia vietando gli affitti brevi no non è così sono stati regolamentati gli affitti brevi quindi tutti quelli che annunciavano la fine degli affitti brevi e quant'altro non hanno capito assolutamente nulla semplicemente sono state messe delle regole laddove non c'erano o è stata fatta chiarezza laddove la chiarezza non c'era che cosa significa significa che tantissimi host si trovavano in difficoltà perché magari in Lombardia dovevi fare il CIR e in Sardegna dovevi fare lo IUN il CIR e lo IUN sono la stessa cosa è un codice identificativo regionale che ti permette di dimostrare che la tua proprietà è stata censita cioè è stata regolamentata in regione però se in Lombardia ho il CIR e in Sardegna ho lo IUN e in Lombardia lo devo chiedere andando su un sito e in Sardegna in un altro ancora e moltiplicate questo per il numero di regioni italiane c'è una frammentazione incredibile cioè significa che praticamente in ogni regione italiana ho un procedimento diverso ho un nome diverso ho un sito diverso nel quale andare e quindi ad esempio con queste regolamentazioni è stato dato un unico percorso da seguire il codice si chiama CIN codice identificativo nazionale è lo stesso in tutte le regioni d'Italia e la metodologia per chiederlo è la stessa in tutte le regioni d'Italia quindi ad esempio questa regolamentazione per me è stata una manna dal cielo tant'è che ho fatto dei contenuti dove dicevo che per me era un grande vantaggio e sempre a proposito di regolamentazioni che non hanno assolutamente ucciso il business degli affetti brevi ma anzi secondo me ci hanno fatto un grosso favore un'altra genialata che è stata fatta è stata quella di rendere obbligatori tutta una serie di adempimenti procedimenti e codici come quello citato poc'anzi e rendendogli obbligatori tutti gli abusivi ovvero quelli che affittavano lo scantinato quelli che affittavano il garage quelli che affittavano l'ufficio quelli che affittavano in nero senza pagare le tasse sono stati praticamente esclusi quindi un qualcosa che può suonare come negativo ai più ovvero a coloro che non sono professionisti che non hanno studiato che non sanno come fare questo business in realtà è stata una mana dal cielo perché questo tipo di obbligo questo tipo di leggi questo tipo di regolamentazione non sta facendo nient'altro che migliorare il settore perché appunto tutti gli abusivi i poco professionali i poco professionisti eccetera stanno abbandonando il mercato o perché non è più conveniente o perché è diventato insostenibile per loro essendo abusivi stare nel mercato proprio perché le piattaforme li stanno rimuovendo e quindi in realtà vedete è una vera e propria leggenda metropolitana il business degli affetti brevi non è morto ma anzi è migliorato perché c'è molta meno concorrenza rispetto a prima chi è rimasto è rimasto chi sa fare le cose in regola chi sa fare le cose in regola pochissimi e di norma chi sa fare le cose in regola è un qualcuno che o è nel mercato da dieci anni e a furia di sbagliare ha capito come si fa il tutto oppure ha studiato ad esempio presso B&B Academy e uno potrebbe dire Ludovico ma quanti sono gli studenti B&B Academy circa 4.000 wow sono tantissimi è sicuramente un ottimo risultato che abbiamo ricevuto che abbiamo raggiunto a livello di accademia se poi calcoliamo che i milionari in Italia sono oltre 100.000 cioè capite che i potenziali immobili da gestire sono milioni ok solo i milionari sono oltre 110.000 in tutta Italia e lo dice un articolo di giornale molto interessante gli immobili sfitti in Italia sono milioni quindi capite che 4.000 property manager certificati B&B Academy tra l'altro sparsi per il mondo non solo in Italia non bastano assolutamente a gestire tutti gli immobili che ci sono là fuori in realtà c'è carenza di property manager se si ha la giusta formazione acquisire immobili non è un problema e oggi c'è un'opportunità più grande di quanto non ci fosse magari nel 2019 nel 2020 nel 2021 quando la regolamentazione era meno stringente e quindi no l'Italia non sta vietando gli affitti brevi e in realtà questo business non sta morendo ma sta vivendo secondo me un periodo di forte crescita e poi anche i dati trimestrali di Airbnb lo certificano record su record continuano ad aumentare il fatturato continuano ad aumentare le notti prenotate continuano ad aumentare i clienti di Airbnb quindi in realtà è una grandissima bagianata ultimi due punti uno in realtà l'abbiamo già trattato ed è relativo alle tasse la gente dice le tasse sono altissime come ho detto all'inizio quindi non mi dilungo la tassazione qua in realtà è iper agevolata sia in forma non imprenditoriale perché si può pagare la cedolare secca che parte da un 21% in determinate casistiche può arrivare al 26% mentre se andiamo a vedere gli scaglioni il PEF raggiungono il 45% quindi potenzialmente qua paghiamo meno della metà di quanto di norma non si dovrebbe pagare di tasse se poi consideriamo anche la possibilità di usufrire con estrema facilità del regime agevolato forfettario beh allora lì si parla addirittura di pagare un 5% di tasse nella migliore delle ipotesi su neanche il 100% del fatturato quindi in realtà un business non solo dove fatturare cifre importanti è molto semplice soprattutto se paragonato ad altri ad altri business ma abbiamo addirittura la possibilità di pagare anche molte meno tasse rispetto al solito talvolta anche senza partita IVA ultimissimo punto è gestirli un lavoro ma è difficilissimo ma perché non dici che bisogna fare questo ma perché non dici che in realtà è difficilissimo ma in realtà non è difficilissimo partiamo da un presupposto la maggior parte delle persone che dicono che questo lavoro è pesante è difficile non fanno parte della nostra community e non hanno mai studiato quindi ci sta che uno che giustamente non sa che pesci prendere pubblica la casa su Airbnb non ha formazione non ha esperienza e ciò si tramuta in non ottengo prenotazioni o ne ottengo molte poche mi devo pulire la casa in completa autonomia non ci capisco nulla di quello che bisogna fare non ci capisco nulla a livello di normative è chiaro che è come se io domani mi metto a fare il meccanico non ci capisco nulla posso dire che cambiare una gomma è la cosa più difficile del mondo per uno che ha studiato invece è la cosa più semplice del mondo quindi quando vi dicono che è difficilissimo complicatissimo che c'è da impazzire è perché questa gente non ha studiato e non ha idea di come si faccia questo lavoro ve lo posso assicurare al contrario se hai studiato sai come automatizzare tutta una serie di processi sai come guadagnare a sufficienza tale per cui le pulizie le deleghi le fa qualcun altro e sai fare questo lavoro in un certo modo in realtà è il lavoro secondo me più bello del mondo perché ti permette di guadagnare tanto e avere tanto tempo libero non significa che non devi fare niente non significa che ti gratti dalla mattina alla sera non significa che vivi in vacanza ma comunque ti permette sì di fare molte più vacanze rispetto al solito di determinati giorni anche addirittura non lavorare di poter gestire la quasi totalità delle cose dal tuo telefono da remoto in qualsiasi parte del mondo tu sia e volendo anche di delegare queste poche operazioni che rimangono a delle persone che puoi trovare all'interno della nostra community in giro eccetera 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 quindi gestirli è un lavoro quindi voglio smentire la leggenda metropolitana che gestire i mobili è una cosa estenuante gestire i mobili è un lavoro ma non è come lavorare in ufficio non è come lavorare in fabbrica non è come andare a zappare la terra sei molto più libero guadagni molto di più hai molta più flessibilità non hai le barriere all'ingresso che magari puoi avere nell'aprire un ristorante piuttosto che nell'avere un bar nell'avere un'attività gli orari sono molto più ridotti i guadagni sono maggiori la tassazione agevolata e ripeto soprattutto la maggior parte delle operazioni sono automatizzabili quindi smentiamo questa leggenda metropolitana fatta da principalmente persone che hanno paura di avere nuovi competitor e quindi chiaramente vogliono spaventare le persone perché hanno paura di ritrovarsi con maggiore competizione e smentiamo una volta per tutte che è questo lavoro difficilissimo perché chi dice che è un lavoro difficilissimo è chi non l'ha mai fatto in un determinato modo quindi vi assicuro che non è un lavoro così pesante anche perché altrimenti tutte le persone che vengono a fare testimonianze mettendoci nome cognome faccia e link ai loro portfolli di Airbnb quindi sono persone che effettivamente dimostrano al 100% che quello che stanno testimoniando è reale sarebbero degli stupidi a dire ah sì io lavoro sei mesi all'anno gli altri sei mesi sto in vacanza o a dire oggi finalmente posso passare del tempo con mia figlia insomma che motivo avrebbero di dire falsità mettendoci nome cognome faccia sarebbero degli stupidi quindi piuttosto non fidatevi di chi vi dipinge questo business come un business in realtà non positivo perché in realtà è un business positivo bene spero che questa lezione barra video vi sia piaciuto vi ricordo che trovate un sacco di contenuti gratuiti qua in descrizione tra cui la possibilità di fare una consulenza gratuita con il nostro team e anche un ebook che abbiamo realizzato se ti stai avvicinando al mondo degli affitti brevi iscriviti al canale e non perderti i prossimi video ciao